La corsa alle nuove fonti energetiche è la prima battaglia in cui l'Italia si deve impegnare per superare la crisi e rilanciarsi in maniera eloquente nello scenario mondiale. A rendere palese questa esigenza è Giuseppe Recchi, da poco nominato al vertice di Telecom dopo il periodo di presidenza dell'ENI, che al Teatro San Carlo di Napoli ha presentato il suo libro Nuove energie e le sfide per lo sviluppo dell'Occidente, che dalla storia dei grandi pionieri energetici nei cinque continenti, giunge ai giorni nostri puntando sull'Italia e le energie alternative. Il bel paese è da molti definito l'Arabia Saudita di queste risorse. Al massimo napoletano hanno partecipato tra gli altri alla presentazione il governatore della regione Campania Stefano Caldoro e il direttore del Corriere del Mezzogiorno Antonio Polito. Recchi si è soffermato anche sulle politiche europee e l'interazione tra istituzioni ed energia. Il prossimo inverno, se continuano le crisi intorno a noi, potremo avere dei problemi, per cui la risposta non può che essere europea, perché la sicurezza energetica per una grande area economica europea deve essere un problema affrontato a tutti i 28 Paesi membri. L'idea energetica a prescindere le elezioni è un problema contingente, industriale, chiunque vincerà le elezioni non potrà non affrontare questo tema, come altri che sono le strategie industriali, comunque qualunque tema che fa di un'area un'area competitiva. Oggi l'energia rappresenta un fattore importante per le competitività delle nostre industrie e per cui è un problema che andrà affrontato da chiunque vincerà le elezioni.